perché dappertutto ci sono così tanti recinti in fondo tutto il mondo è un grande recinto perché la gente parla lingue diverse in fondo tutti diciamo le stesse cose perché il colore della pelle non è indifferente in fondo siamo tutti diversi perché gli adulti fanno la guerra dio certamente non lo vuole perché avvelenano la terra abbiamo solo quella a natale un giorno gli uomini andranno d'accordo in tutto il mondo allora ci sarà un enorme albero di natale con milioni di candele ognuno ne terrà una in mano e nessuno riuscirà a vedere l'enorme albero fino alla punta e allora tutti si diranno buon natale a natale un giorno grazie